Ciao, sono India Marine, lavoro all'Hotel Garden Sea di Caorle e oggi abbiamo preparato una cheesecake alle carote e ci siamo aiutati con il forno Giko usando i vari metodi di cottura. Abbiamo usato il dry force per aiutarci a fare la meringa al muscovado che crea una pressione all'interno della camera spingendo esternamente l'umidità all'interno, di conseguenza diminuendo i tempi dell'asciugatura e di conseguenza diminuendoci i tempi.